Dunque, per vedere meglio l'effetto che fa importare un modulo, vi presento una piccola funzioncina che si chiama DIR, che è utile perché ci fa vedere quali sono i nomi definiti all'interno di un altro nome. Vediamolo in modo interattivo. Quindi apro una console di Python per poter scrivere dei comandi. Allora, se io chiamo la funzione DIR, mi fa l'elenco dei nomi che in questo momento sono visibili in questa console, quindi in questo programma. E vedo che c'è tutta una serie di nomi che sono dei dunder, nomi speciali tipo built-ins, che contiene tutte le funzioni predefinite, ma non c'è nulla di utile qua. Se io dentro il programma scrivessi A uguale a 7 e chiamo la funzione DIR, mi dirà che dentro questo ambito, questo namespace, c'è il nome A. Ok? Quindi quando io faccio import, spazio voti, voto, vedo che tra i nomi che ho definito compare il nome voto, che è il nome di un modulo. Ok? Che cosa contiene questo modulo? Quali cose definisce questo modulo? Lo posso chiedere chiedendo l'elenco dei nomi definiti dentro voto. Quindi voto è un modulo, è un oggetto che definisce al suo interno dei nomi e mi dice che il modulo voto all'interno ha un nome libretto, è un nome voto, noi sappiamo che su entrambe classi la lettera maiuscola ce la suggerisce, più una serie di soliti nomi dunder predefiniti che non guardiamo. E poi definisce anche data classes, il metodo voto, perché? Ma perché abbiamo fatto un import e l'import, qui sono dentro voto, punto pi, definisce un nome a top level e quindi anche questo nome quando importo il modulo viene a sua volta importato, è abbastanza inutile questa cosa qua, anzi devo dire che è anche un po' fastidiosa ma pazienza. L'importante è che ci siano i nomi nostri. E questo fa sì che io possa accedere a voto punto libretto perché fa parte dei nomi definiti al suo interno. Se io voglio vedere voto punto libretto, voto diciamo così ad esempio, mi fa vedere che è una classe. E se voglio sapere cosa contiene questa classe posso fare il dir di questa classe qua dove a un certo punto ci sono tutti i suoi metodi predefiniti della classe stessa ma nessuno degli attributi della classe, perché come sappiamo fino a quando non faccio l'init la classe non ha attributi, solo l'oggetto può avere gli attributi. Quindi se io creassi un voto, vabbè, allora potrei vedere gli attributi definiti del voto, adesso non lo scrivo perché devo scrivere tutti i nomi, è un po' lungo da scrivere, no? Però potrei copiarlo da qua, guarda. Copio questo e v1 dovrebbe definire, avere visibili tutti gli attributi della classe più tutte le proprietà che l'init ha creato e ha aggiunto quell'oggetto lì. Quindi questa funzione dir può essere comoda anche per vedere se abbiamo dei moduli che non abbiamo scritto noi, se abbiamo scritto noi ci vediamo il codice e vediamo cosa c'è. Però dei moduli che non abbiamo scritto noi per capire che cosa definiscono, a volte non abbiamo il sorgente, o questo è troppo lungo e complicato da vedere, vuoi sapere quali sono le funzioni che lavorano sui numeri complessi? Vabbè, fai un import. cmat, dir, cmat e vedi tutte le funzioni che sono definite all'interno di quella libreria, ad esempio. Per poter fare il dir, cioè vedere i contenuti di un oggetto, ovviamente l'oggetto devo averlo importato, devo averlo definito perché altrimenti se io adesso provassi a fare un dir di mat, mi dice che non, non dici mat, mat, mi dice che quel nome lì non è definito. Cioè c'è ovviamente, è un modulo built in, ma non l'ho importato, non è quel nome, non è visibile dentro il mio programma. Quindi è sempre importante quando uso un nome che questo nome sia definito. O lo dichiaro io, o lo importo da fuori, e poi con questa funzioncina dir posso vedere cosa succede, che poi in realtà è ciò che fa il debugger quando ci fa vedere queste cose. A e V1 sono il contenuto, al di là di tutte le classi dunder, delle variabili definite in questo programma. Dopodiché abbiamo visto che c'è anche definito un nome vuoto, che me lo mette tramite special, dicendo senti io non ti faccio vedere queste menate qua, no? Che di solito non ti interessano. Sono nomi comunque definiti in questo elenco, ma semplicemente il debugger ce le fa vedere nascoste qui, ma se voglio posso andare a vedere che vuoto definisce il libretto e vuoto le data classes. Sono le stesse cose di prima, semplicemente un'interfaccia visiva a quello che dir mi fa vedere in modo testuale. Può essere comodo più che altro per esplorare altri moduli, altre funzioni che ci servono. E ovviamente tutti questi metodi dandar che si portano dietro, che servono per garantire poi il funzionamento. Ad esempio, avevamo visto prima, forse non l'abbiamo notato, che c'è nel modulo c'è un get-out da qualche parte che faceva sì che io possa accedere agli elementi. Ok. Andiamo adesso a commentare una frase che ho fatto, una delle primissime frasi che ho detto sui moduli. Ho detto, un modulo deve contenere solo dichiarazioni. E il nostro modulo così fa. Contiene dichiarazioni di classi e basta. E di funzioni, volendo, eccetera, eccetera. Cosa succederebbe se così non fosse? Cioè, cosa succederebbe se nel mio modulo voto.py, oltre ad avere la classe voto, la classe libretto, più altre funzioni, se le voglio definire, scrivessi print ciao. In un momento di solitudine. Allora, chiaro, succede che quando io eseguo il programma voto, mi stampa ciao, è fin lì. Perché questo è un modulo, ma è pur sempre un file Python, e quindi posso pur sempre eseguirlo. No problem. Ma cosa succede invece se eseguo il mio main? che crea questo voto e lo stampa. E se eseguo il main che importa voto, fa quel che deve fare, ma mi stampa anche il ciao. Nulla di speciale. È la conseguenza, semplicemente, del fatto che abbiamo detto, che l'import di un modulo, oltre a creare il namespace, salvare i nomi, eccetera, esegue il modulo. E non è che puoi eseguirlo selettivamente, se eseguo una classe, lo eseguo, e se fai un'altra istruzione non la eseguo. Che ne salvo. Eseguo il modulo della prima all'ultima riga. Quindi, cosa significa? Significa che quando io importo un modulo, tutto il codice che c'è al di fuori delle definizioni, di classe o di funzione, viene comunque eseguito. E normalmente è qualcosa che non vogliamo. Non vogliamo perché? Ma perché quel codice viene eseguito quando vuole lui. Viene eseguito qua, alla prima riga. Prima che il mio programma abbia già inizializzato magari le cose che deve inizializzare. E poi c'è tutto un meccanismo per cui in Python uno stesso modulo viene importato una volta sola. Cosa vuol dire? Che se io ho tanti file, un main, che importa tanti moduli, e questi moduli l'altra volta ne importano degli altri, quanti di questi importeranno il modulo mat? Tanti. Il modulo mat viene importato una volta sola, viene eseguito una volta sola, poi i nomi vengono messi a disposizione di tutti coloro che li vogliono. Quindi non sapremo mai esattamente quando viene eseguito il modulo. Viene eseguito la prima volta che qualcuno dei moduli lo importa. E vai a sapere. Quindi non possiamo fare affidamento su quel codice lì, su quelle istruzioni lì. Quindi evitiamo, per il nostro bene, di avere istruzioni eseguibili al di fuori delle definizioni. Per quello che prima dicevo che i moduli definiscono tre cose. Variabili, meglio se sono costanti, perché diventano variabili globali, funzioni e classi. Però, può tornare utile, può tornare utile avere dentro un modulo qualche riga di codice per poter usare il modulo come fosse un programma a se stante. Cioè, noi magari sviluppiamo un modulo che ha delle classi, delle funzioni e poi c'è un suo main che fa cose. Oppure quelle stesse classi le vogliamo riusare in un programma più grande. Pensiamolo soprattutto per il testing. Io mi sviluppo queste due o tre classi e poi mi faccio un programmino di 4 o 5 istruzioni che fa un po' di testi. Provo a creare la classe, stamparla, come quello che stiamo facendo. È utile averlo lì. È utile poter testare il modulo voto senza necessariamente fare un main più grande. No? Quindi io mi definisco delle classi, quindi sono definizioni pure. Tipica cosa che se faccio run non viene eseguito nulla. Ma poi magari ho qua sbaglio e sbaglio a scrivere anziché voto mi è scappata una lettera si chiama voto S perché mi è scappata sulla tastiera e se provassi a fare run non mi dice niente a parte il ciao che adesso cancello. Ma poi ho rotto il modulo perché tutti quelli che lo usano non trovano più il nome giusto. Non sarebbe tanto carino che nel modulo alla fine avessi due o tre istruzioni per testarlo così mi accorgo subito se ci sono dei problemi. E lo posso fare, potrei fare ad esempio quello che dicevamo prima questo voto di esempio lo posso creare qua sotto anziché ciao posso creare questo voto qua così vedo subito ovviamente non col nome davanti vedo se funziona e così via. Posso creare un libretto l1 uguale libretto e poi l1.append di v1 l1 posso fare cose di questo genere e va bene perché a questo punto se faccio run di questo se non mi da errori oppure mi stampa le cose giuste adesso la classe libretto non è ancora capace di stampare quindi però possiamo stampare la media no? print l1.media che è l'unico metodo che ha poverino e allora mi dirà che la mia idea è 28 non è un test esaustivo completo ma perlomeno facciamo un po' scaldare il motore girare a vedere la funzione quindi è utile avere dentro il modulo delle istruzioni che esercitano le funzioni del modulo stesso perché altrimenti conoscendoci per pigri quanto siamo non faremo mai un altro file con solo il test che importa potremmo fare un altro file test voto che importa voto e chiama le sue funzioni quindi al modulo che definisce delle cose e un altro modulo diciamo così un altro programma che testa quel modulo lì è utile soprattutto quando il programma è grande che è fatto di tanti moduli non è che puoi testare tutto nel main principale fai il vario modulo e ti fai il suo test locale poi un altro si chiama unit testing se vuole parlare e ci sono dei framework anche più complicati per farlo se no semplicemente appunto quando definisco delle funzioni all'interno di un modulo scrivo o scrivo un programma di test oppure magari questo qui è già utile di per sé esempio così se definissi un modulo che definisce delle operazioni sulle matrici ad esempio da usare nei corsi di algebra allora non potrebbe avere un main che fa la semplice calcolatrice quindi definisci la moltiplicazione la somma di matrici l'inversa la trasposta tutte queste cose brutte e poi nel main puoi leggere una matrice e lui ti fa le operazioni su questa ma lo scopo vero di questa libreria non è tanto avere la calcolatrice interattiva che ti serve magari per fare due punti al volo ma è magari tutte queste funzioni le importi in un programma più grande dove farai qualcosa di utile con queste matrici e allora lo stesso modulo può essere usato o in modalità indipendente stand alone per fare qualcosa di utile o per testare se stesso dipende un po' da quello di fare oppure può essere importato all'interno di un altro sarebbe bene poter avere tutte e due cose insieme allora si può fare grazie a come sempre in python c'è sempre il dunder che salta fuori il nome dunder name all'interno di ogni modulo viene definita la variabile name dunder name così questa variabile assume il valore del nome del modulo stesso vediamola print name sono dentro vuoto allora io vado dentro main eseguo eseguo import vuoto ok e mi stamperà vuoto quindi quando ho fatto questo import l'ho eseguito il codice di vuoto nel codice di vuoto a un certo punto la prima istruzione eseguibile è questa print name quindi ogni volta che cioè in qualunque punto del programma c'è sempre la variabile name definita che ti dice qual è il nome del modulo in cui mi trovo ma se io eseguo questo programma direttamente e non sotto import questo nome non è più voto ma è main quindi la variabile name ha sempre il valore del modulo importato se sono in un modulo che sta essendo importato in questo momento se invece sono nel programma principale che importa gli altri moduli il nome della variabile name scusate il valore della variabile name è invece questo valore speciale dandermain allora questo ci può servire per distinguere se queste istruzioni vengono eseguite stand alone come programma separato o come effetto di un import che arriva da qualche altra parte allora tipicamente quello che si fa è if name uguale main cioè io nel mio modulo avrò le mie definizioni la class le funzioni tutte queste belle cose poi se e solo se il programma viene eseguito direttamente if name uguale main allora eseguo altra roba in questo caso un programma di test se invece questo viene importato quindi se io run questo mi stamperà ovviamente 28 ma se io lo run partendo dal main scusate il termine run ci dovrebbe stampare questo esame non ci dovrebbe stampare il 28 infatti è così perché poiché sono in import name vale voto e non main e quindi questo codice non viene eseguito quindi questa è una convenzione molto utile è una normalissima if non è che sia fantascienza non è public void static main args eccetera eccetera è una if però va a testare quella variabile che mi fa la differenza tra l'altro PyCharm se ne accorge e mi mette addirittura il triangolino qua vicino dice guarda se vuoi runnare il programma clicca qua che te lo run come programma e non come modulo se uno volesse essere ancora più pulito può dire vabbè questa qui definiamo una funzione testvoto che fa queste cose non gli piace perché perché devo mettere sotto ovviamente magari con l'underscore davanti così sto dicendo che è privata usiamo la convenzione dell'underscore qui la stessa cosa qui sto solo facendo il pignolo qui non cambia nulla if name uguale main esegui le istruzioni solo che queste istruzioni anziché schiaffarle sotto questa if le ho messe dentro una funzione c'è una piccola differenza la piccola differenza è che queste variabili qua l1 v1 in questo caso sono variabili locali di questa funzione e quindi non le può vedere nessuno vabbè il main non lo vedrebbe comunque perché quando lo importo dal main questo codice non viene eseguito ma se invece fossero qua sotto queste variabili sarebbero variabili globali definiti a livello di questo modulo qua e allora se qui dentro avessi scritto v1 per dire senza definirlo andrebbe a pescare il v1 delle istruzioni principali improbabile ma può succedere allora invece se io uso v1 qua che non so faccio print v1 per dire questo deve dare un errore perché v1 non è definita se io invece lasciassi le istruzioni di prima sotto l'if ovviamente qua non sono protetto da un namespace di una funzione quindi quel v1 viene iniettato a livello di nomi complessibili del modulo il codice viene eseguito prima di chiamare la funzione quindi quando chiamo la funzione il metodo il nome è già definito e quindi me lo prende per buono quando non dovrebbe dopodiché quando quel modulo lo importo dal main quel nome non è definito e mi dà errore allora lui dice ma come quando ho fatto test funzionava quando lo eseguo nel main non funziona più ecco perché c'è un po' di inquinamento name pollution un po' di inquinamento di nomi quindi per essere tranquilli che il comportamento di questi metodi di test sia indipendente dalle variabili che definisco diciamo in modo più pulito è questo definisco un mio main locale che chiamo solamente se sono stand alone altrimenti questo underscore davanti è la convenzione per dire non importarmi come nome perché tra l'altro se anche qualcuno facesse import asterisco di tutti i nomi python nell'asterisco non importa i nomi che cominciano con underscore quindi viene tutto non è nascosto non esiste nulla di privato in python però non arriva per errore quindi questo è un'abitudine che può tornarci comodo soprattutto se stiamo sviluppando delle classi ci scriveremo un po' di istruzioni per testarle quando le classi sono a posto con le istruzioni anziché buttarle via le teniamo lì così ogni volta che dovessimo iterare migliorare qualcosa lo possiamo fare direttamente dentro semplicemente facendo un run del codice stesso vedremo più avanti quando facciamo il codice per collegarsi al database devi sempre fare attenzione il database è giusto la password eccetera quindi è tanto comodo avere lì sotto le istruzioni in cui apro quel file faccio run se non mi da errore vuol dire che è tutto a posto posso andare avanti col programma ok un piccolo passo avanti ma concettualmente non ho aggiunto quasi nulla se non un elemento di sintassi è quando ho ancora più moduli da definire quindi il programma cresce ancora di più e voglio organizzare i moduli su più cartelle no? lo posso fare in Java lo potevo già fare si chiamavano package e anche qua si chiamano package quindi l'import che ho fatto è l'import di un file della mia stessa cartella e quello normalmente è così se voglio importare un file da una sottocartella del mio progetto lo posso fare semplicemente con la sintassi nome del package punto nome del modulo dove il nome del package non è altro che il nome della cartella e il nome del modulo è il nome del file Python quindi quando io faccio import control punto controller sto chiedendo di importare le definizioni che sono dentro che ottengo rannando il file controller punto pi che sta dentro la cartella control nome package nome cartella nome modulo nome file semplicemente li chiamano così per essere più eleganti no? ma sono la stessa cosa posso avere qui c'è un esempio di un'architettura di programmi che faremo tra qualche settimana nel corso in cui separiamo ad esempio quelle che sono i metodi le classi per accedere al database rispetto a quello che chiameremo il model che contiene gli algoritmi e i tipi di dati principali rispetto all'interfaccia utente e la parte grafica ciascuna delle quali sarà fatta di vari moduli di varie classi però le teniamo raggruppate per competenza no? per parti diverse no? poi impareremo ad esempio che il programma dovrebbe reggersi anche senza interfaccia grafica quindi possiamo sviluppare tutta la parte di algoritmo sganciata dall'interfaccia grafica quindi è comodo averla da una parte separata quindi se vogliamo organizzare il codice su più cartelle non c'è problema semplicemente quando richiamiamo un modulo dobbiamo mettergli davanti il nome della cartella detto anche il nome del package e poiché il nome del modulo avrà davanti il nome del package tutte le sintassi degli import che conoscevamo continuano a funzionare ma dici devo schiaffare davanti ovviamente il nome del package ogni volta oppure posso importare il nome del modulo da un package funziona nello stesso modo di prima e quindi questo qua ti rende disponibile il nome del modulo da cui puoi andare a pescare i vari nomi avreste forse notato in questa figura che in tutte le cartelle c'era un file strano ogni tanto c'è che un nome d'under salta sempre fuori che si chiama underscore underscore init underscore underscore punto python cos'è sta roba qua? allora nelle prime versioni di python fino alla 3.3 era obbligatorio averlo anche se fosse un file vuoto che non conteneva niente ma per far sì che python riconoscesse che quella cartella in realtà era un package andava a vedere se conteneva il file init poi se per caso conteneva il file init quando vado ad importare qualcosa da quel package esegui il file init e poi esegui il package quindi il init giustamente inizializza il package quindi se dobbiamo inizializzare delle cose fare delle definizioni comuni che devono avvenire prima di importare in qualunque modulo che sarà in quella cartella quelle istruzioni le possiamo mettere dentro il file init quindi svolgeva due funzioni il file init parlo al passato prima del python 3.3 uno dire a python che quella cartella in realtà è un package altrimenti lui non la vedeva due eseguire delle istruzioni di inizializzazione che vengono eseguite o quando importo il package o quando importo un qualunque modulo di quel package adesso la prima requisita non c'è più nel senso che dalla tre in avanti è in grado di importare da una cartella anche se non c'è dentro il file init ma il secondo scopo può ancora esserci quindi se ci serve ci servisse avere del metodo del codice che vogliamo assolutamente eseguire prima dei vari moduli prima di rannare diciamo con i codici dei moduli lo possiamo mettere dentro il file init però è un dettaglio quindi lo potete dimenticare lo potete creare come file vuoto se lo vedete in giro non spaventatevi in un ruolo di speciale semplicemente molto spesso anche per abitudine io non so cosa faccia PyCharm perché non mi sono se io voglio creare un nuovo package c'è anche la voce python package lo chiamo libretto ad esempio e vedete che lui ci mette dentro un file init è diventata anche un po' una cosa estetica anche se non serve più a niente siamo abituati a vederlo però possiamo anche cancellarlo non capita nulla e vabbè e fino a qua abbiamo imparato a lavorare con i moduli nostri i moduli che mi sono fatto io ad esempio io questo ho fatto questo package di libretto potrei benissimo prendere il voto e spostarlo dentro il libretto magari dentro la classe di libretto avrò altre classi altri moduli se il programma cresce di complessità chiaramente ha senso strutturarlo un pochino di più ma è anche possibile vabbè sui moduli di libreria non ci poniamo il problema facciamo import e vanno e sui moduli esterni quelli che ho detto che si leggono di apai pai e che si possono installare allora dal sito apai pai possiamo trovare quello che ci serve ovviamente dal suo motore di ricerca che adesso ho perso da qualche parte da qua no fai un project se ti serve qualche cosa cerchi cosa ti serve no e e però abbiamo detto non li trova se non li installo sul mio computer se non li copio sul mio computer come faccio a copiarli a installarli allora esiste un comandino che si chiama pip pip significa python installs programs non è una scemenza però è facile da scrivere perché è breve è di fatto un package manager non so se avete usato già altri sistemi magari tutto linux siete abituati con apt a installare i pacchetti chi lavora in javascript usa npm sono tutta una serie di programmini che servono per installare e gestire le librerie o i programmi altri all'interno del mio sistema e quindi pip install e il nome del progetto cosa fa questa istruzione qua il pip viene stato normalmente viene installato quando installate python quindi se voi aprite una finestra di comando e scrivete pip c'è esiste ok e ha una serie di comandi tipo installa e disinstalla che sono i due più importanti no cosa fa quando scrivo pip install o qualche cosa lui va a cercare sul repository py py il package che si chiama in quel modo lì lo scarica e lo installa lo installa dove lo installa nella tua installazione corrente di python ok py charm ci permette anche una sua funzionalità che ci permette praticamente di usare in modo interattivo pip che trovate in questa icona qua python packages dalla iconografia abbastanza ridicola questo panino qua dove vi fa vedere se andate qua su python package quando avete un progetto aperto vi fa vedere quali sono i moduli installati qui e quali sono i moduli installabili possibilmente che potete installare da pip il paio chiaramente questi qua sono una lista infinita ok in questo caso vedete che c'è installato pip un altro un altro paio di package che servono per installare i programmi quindi roba minima di sistema non c'è quasi nulla se volete installare qualche cosa che ne so appunto quando lavoreremo con i database che ne so maria db lo useremo scriviamo qui nel search lui cerca su pipai quando trovi quello che ti piace fai install e te lo installa niente di più ok è la stessa cosa che ricercare sull'interfaccia web se io cercassi qua maria db mi dice cosa c'è questo qui e mi dà il comando pip da scrivere è la stessa cosa ok però dove li installa cioè immaginiamo che io sul mio computer ho tanti progetti alcuni progetti hanno bisogno di un modulo magari interfaccia grafica altri hanno bisogno di una libreria statistica altri hanno bisogno di accedere al database e tutte le volte che faccio pip install vanno ad aggiungere questi moduli all'interprete python che ho installato sul mio computer c'è una cartella librerie dentro cui sitelib non mi ricordo come si chiama ma fa lo stesso che contiene tutte le librerie che ho installato su questo computer a livello di sistema allora questo crea un po' casino crea un po' di confusione perché io ho dieci progetti diversi ognuno di questi progetti ha bisogno di librerie diverse allora io le ho installate tutte nel mio computer tutte insieme e questo crea due problemi il primo problema è che non so più che cosa ho installato per chi cioè che quel package l'ho installato perché mi serviva per questo programma acquistato per questo programma nel momento in cui l'ho installato io lo sapevo ma dopo un attimo sono tutti lì insieme non so più quindi ti devo dare il mio programma perché lo devi usare e ti dico ma guarda devi installarti dei package ma non so più quali sono cioè sono alcuni di questo marasma che ho già installato peggio ancora se ti dico guarda che tu devi installare questo programma ma fa attenzione perché quel package è cambiato e quindi ci serve la versione 3 perché la versione 4 non è compatibile e tu magari stai già usando un altro programma che invece hai bisogno della versione 4 allora quello che sto cercando di dire è bello che pip installi i package e mi di fatto aumenti la libreria standard con altra roba però sarebbe tanto ancora più bello far sì che questi package aggiuntivi venissero installati e gestiti progetto per progetto non globalmente sul computer questo è lo scopo dei cosiddetti virtual environment un virtual environment è un meccanismo in python che ci permette di isolare i package di cui esterni di cui abbiamo bisogno definendoli progetto per progetto quindi finora non abbiamo mai avuto bisogno perché usavamo package fatti da noi moduli fatti da noi o moduli di sistema della libreria standard la libreria standard è quella non ho aggiunto nulla ma quando comincio ad aggiungere dei package installati con pip allora mi sorge il problema li installo in questo progetto e non in quell'altro così ogni progetto avrà accesso ai moduli che gli servono ok cos'è un virtual environment un virtual environment è una copia dell'interprete python quindi ti prende praticamente tutto il python che avete installato concettualmente e ve lo copia in una sottocartella del vostro progetto che si chiama .venv .virtual environment ci sbatte dentro la copia di python poi se può evitare di copiare i file fa solamente dei link simbolici ma questo è un dettaglio e da quel momento in avanti quando accedete a quel progetto e installate i package con pip anziché installarli nell'installazione di sistema li installa nella vostra copia locale quindi è un sottocartello del progetto e quindi i package vengono installati localmente questo PyCharm ce lo gestisce molto bene io non ho fatto caso fino ad ora ma avevo una cartella che si chiamava .venv già nel mio progetto come è saltata fuori questa cartella la vediamolo se crea un progetto nuovo prova virtual environment l'altra volta abbiamo focalizzato l'attenzione sul fatto che si poteva creare in automatico un repository git per un progetto nuovo questa cartellina qua utile ma poi c'era anche dire ok sto creando un progetto python qual è l'interprete python l'interprete python intende non solamente il file python.exe ma anche tutte le librerie che si porta dietro qual è l'interprete che voglio usare e qua ti fa scegliere anzi la scelta predefinita è project venv cioè un virtual environment interno al progetto quindi quando creo un progetto e seleziono questo automaticamente viene anche creato un virtual environment per il progetto stesso oppure qui se vado su custom posso scegliere anche qui di creare un virtual environment bla 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 oppure selezionare un'installazione di python di sistema ad esempio qui mi sono dimenticato di installare la 3.12 la 3.11 e ne ho una serie di copie e quindi in questo caso se scelgo questa scelgo quella installata nei programmi quindi quella di sistema complessivo che non è una buona idea no? quindi normalmente se io quando creo un progetto nuovo in PyCharm mi dà l'opzione di creare un nuovo virtual environment mi dice guarda viene salvato dentro il progetto provavie flash venv e viene copiato e qui mi fa vedere quali sono i python installati o anche non installati su questo computer e dice da quale vuoi copiare? quindi prendo l'unico che ho installato al momento è questo quindi mi va bene questo e mi crea questa sottocartella se lo creo apriamolo pure questo progetto ci mette un attimo e se vado a vedere mi ha creato questa cartella venv che appunto non mi interessa ovviamente questa cartella qui è privata di questo progetto se io devo copiare il progetto darlo a un amico scaricato su github eccetera questa non va copiata perché contiene l'installazione del python del mio computer che magari sul tuo non gira o una versione diversa quindi è solamente la cartella nascosta che contiene dentro lib site packages delle librerie di sistema la libreria standard più i package installati e dentro script contiene il nostro famoso python.exe che esegue il programma quindi contiene proprio un intero ambiente python virtuale perché appunto non sempre è copiato e quindi da questo momento in avanti se voglio su questo progetto posso installare qualche cosa che non so posso installare abbiamo detto facciamo sempre esempio di MariaDB lo installo ma me lo installerà in questo virtual environment qui quindi in questo progetto potrò fare import MariaDB adesso mi fa vedere che dovrebbe esserci MariaDB qua sotto se vado a vedere a questo punto i package installati vedete dentro l'installati c'è questo ma se torno sul progetto di prima libretto vuoti ovviamente negli installati ci sono quelli che erano installati prima nell'altro virtual environment quindi ogni progetto ha il suo virtual environment che conserva i package installati per quel progetto quando crea un progetto nuovo funziona così quando invece dovessi magari importo da github oppure mi passano dei file di un altro progetto e quindi mi passano solamente le cartelle del progetto non ovviamente in virtual environment avrei un progetto nudo diciamo allora è possibile comunque creare un nuovo virtual environment da questo menu sotto cioè qua in basso ti fa vedere python 3.11 tra parentesi libretto vuoti questo tra parentesi vuol dire che sta usando il virtual environment che c'è dentro questo progetto dentro questa cartella e poi ti ricorda la versione di python su cui è stato creato questo virtual environment se invece tu apri un progetto che non ha virtual environment per come l'hai creato per come l'hai scaricato lui ti fa vedere qua semplicemente il nome della versione python di sistema ieri l'ho fatto sul computer dove ho il 3.12 installato allora se vedo questo mi viene un punto di attenzione che dico attenzione che se sto usando il python di sistema non voglio installare nuovi package se no creano casino confusione allora in questo caso cliccando qua sotto compare la voce aggiungi nuovo interprete possiamo anche vedere qua aggiungi nuovo interprete locale perché poi c'è tutto il modo di far girare python su una macchina remota e a questo punto mi dice ok le informazioni di prima per creare un virtual environment se non c'era già questo qua mi dice che non lo può creare perché la cartella ovviamente è già occupata ma se non ci fosse la posso creare in questo modo quindi quando creo un nuovo progetto in automatico creo un virtual environment quando importo un progetto magari clonando sulla github non ce l'ha ma la prima cosa che faccio prima di installare dei package esterni è quello di crearlo con questa procedurina qua e da quel momento in avanti sono tranquillo ho isolato le dipendenze dei vari progetti quindi li ho isolati all'interno dei vari virtual environment quindi la cosa si sta un pochino complicando nel senso che io ho python installato a livello di sistema il virtual environment ho installato a livello di progetto i package i moduli quando scrivo import python deve trovare quello che cerco quello che mi serve in uno di questi tanti posti allora se qualcuno interessa andare a farsi i fatti di python esiste una variabile sys.path che è una lista di cartelle in cui lui va a cercare tutte le volte che importo qualcosa infatti l'ultima cartella è quella della cartella di progetto quando vado a importare un file che ho scritto io poi se vado a vedere a un certo punto c'è il venve del mio progetto e quindi prima va a vedere in realtà lo legge al contrario prima va a vedere se c'è qualcosa definito nelle mie cartelle se non nel mio virtual environment se non nel library di sistema adesso qua c'è tante cose belle che ha aggiunto PyCharm per dire anche qua non c'è magia c'è un ordine di cartelle che viene ricercata quando faccio import lui va a cercare se c'è una cartella la interpreta come package se c'è un file la interpreta come modulo successivamente in tutte queste location varie tipicamente facciamo in modo che lui trovi ciò che gli serve o dentro il progetto o dentro il virtual environment vedete che nel virtual environment ce ne sono due sottocartelle i package installati e invece quelli di sistema ci manca solo una cosa che è quello di comunicare agli altri quali sono i package che sto usando perché io nell'altro adesso switch sull'altro progetto di prima che si chiamava prova virtual environment dove ho installato così per prova il package MariaDB adesso io potrò qua creare posso creare un nuovo file di prova dove anche se non so ancora cosa farci posso fare l'import di MariaDB e farci cose ok e lo scrivo istruzioni che so facciamo dir MariaDB tanto abbiamo capito che non sappiamo ancora usare il database ma farla dir su un modulo lo sappiamo fare magari facciamo anche print se vogliamo vedere qualcosa e mi dà i metodi le classi che sono definite dentro questo modulo niente di speciale adesso io pubblico questo su github voi ve lo scaricate fate run e non vi funziona perché se vi siete scaricati il progetto vi siete creati in virtual environment questo virtual environment è vuoto non contiene questo pacchetto MariaDB e come fate va bene dice vabbè ovvio devo installare le dipendenze e come fate sapere che dipendenze installare vi dovete andare a vedere tutti i miei file quali import faccio e quali di questi import voi non avete potrei essere saldico dirvi di sì ma in realtà c'è modo di dichiarare esplicitamente in un progetto quali sono le dipendenze che servono per poter eseguire quel progetto c'è un fileetto un file di testo che si chiama una convenzione ci sono in realtà tre convenzioni diverse questa è la più semplice la più vecchia voi potete aggiungere sul progetto un file che si chiama requirements.txt requirements.txt lo aggiungete al progetto e dentro questo è un file di testo vuoto per ora dentro questo file potete mettere l'elenco dei package che serve che è necessario installare per poter eseguire questo progetto addirittura PyCharm è anche un pochino furbo che ti dice guarda ho capito che questo file non è un file qualunque ma è il file dei requisiti delle dipendenze se vuoi ti vado ad aggiungere in automatico gli import che hai fatto qua dentro quindi quando io ho creato un file requirement.txt PyCharm mi aiuta a tenerlo aggiornato quindi se facessi una nuova import facessi un nuovo install me lo va ad aggiungere qua dentro quindi il file requirement è sempre aggiornato con i package che sono stati installati aggiunti e necessari per questo progetto con una sintassi un po' strana per cui io posso dire qualunque versione va bene oppure mi serve esattamente una certa versione oppure una versione maggiore uguale oppure una versione uguale maggiore purché sia dichiarata come compatibile insomma c'è una serie di finezze ma se uno usa i package diciamo così molto diffusi molto famosi è probabile che qualunque versione gli vada bene basta prendere l'ultima normalmente io posso anche scrivere così il nome del package nudo e crudo e lui va a scaricarsi quando voi vi prendete il vostro progetto e vi trovate requirement.xt PyCharm vi dirà senti vedo che ci sono delle dipendenze vuoi che te le installi voi gli dite sì e lui automaticamente ce le va a prendere col numero di versione che ho detto io oppure con la versione più recente nel caso in cui io non abbia dichiarato nessun numero di versione quindi questo ci aiuta a completare anche qui l'impostazione del progetto oggi abbiamo fatto un po' di ragionamenti di completamento come completare una classe fatta bene con tutti i suoi metodi e come completare un progetto fatto bene con le cartelle i package i moduli e le dipendenze qui già dal prossimo laboratorio vi chiederanno di organizzare l'esercizietto su più moduli ci abituiamo a lavorare in questo modo e poi passeremo anche a avere moduli in cartelle diverse e poi dalla settimana ancora successiva cominceremo a usare dei package esterni e quindi abituarci a usare questi virtual environment ricordiamoci che il virtual environment è locale al computer al progetto quindi nulla va su github nulla va copiato distribuito agli altri perché è corretto che quando io ricevo un programma scusate un progetto mi scarico i file python e poi localmente sul mio computer mi devo creare il virtual environment e installare i package lì sopra perché ad esempio il virtual environment per windows non funziona per il mac o per la versione 3.11 non funziona per la 3.12 e così via quindi ciascuno se lo deve ricreare nel proprio ambiente tutta la parte python è portabile il virtual environment invece è specifico ok spoiler sul futuro quindi oggi abbiamo visto un po' di strumenti diciamo di lavoro ciò che faremo prossimamente sarà provare a questo punto adesso mi hanno creato le classi vuote io ho provato a identificare una serie di passaggi da fare sul nostro esercizio del libretto universitario a modi ripasso barra approfondimento sulle liste noi ci stiamo ricordando su come funzionano le liste dal primo anno però adesso che abbiamo consapevolezza maggiore degli oggetti eccetera proviamo a ripassare o approfondire le cose quindi va anche bene per chi magari sia un pochino ancora in ansia con le cose che deve ricordarsi proveremo a implementare un po' di questi metodi all'interno della classe libretto giocheremo sono tutte cose che si implementerebbero in un quarto d'ora probabilmente ma ci servono per ragionare su possibili trappole o possibili ragionamenti che ci servono cominciando a lavorare con gli oggetti ok quindi mercoledì cominceremo a fare questo esercizio qua e poi coglieremo l'occasione nella settimana prossima di vedere anche dei contenitori delle strutture dati che non siano la lista perché finora di fatto abbiamo lavorato con liste ci ricordiamo nel primo anno in dizionario ma non li abbiamo ancora usati sono le strutture dati principali che in Python servono per fare quasi tutto ma non sono le uniche e quindi allargheremo anche un po' la vista alle altre strutture dati e ai protocolli che richiedono per poter inserire degli oggetti all'interno di queste strutture dati oggi vi posso salutare con qualche minuto di anticipo è inutile iniziare l'argomento adesso e ci rivediamo mercoledì nell'aula più sfigata del Politecnico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti